Ciao traders, siete su Scalping the Bull. Oggi parliamo di medie mobili, cosa fondamentale per fare trading e scalping. E non solo, anche per i cassettisti, anche per chi vuole entrare in mercato, anche e soprattutto per chi usa i CFD o i Forex, che il book non ha praticamente importanza, perché comunque non hai il book di profondità, le quantità sono quasi fittizie, insomma. Quindi ci si può basare solo sui grafici e sulle medie mobili. In questo caso qua siamo, questo è Stellantis, tra l'altro che sta per toccare i nuovi minimi di giornata. Questa linea è la linea dei minimi. Allora, io uso le medie mobili, per chi diciamo si affaccia al mercato finanziario e deve decidere come e quando entrare in un titolo, è fondamentale aprire il grafico e guardare le medie mobili. Quindi magari posso aver letto una notizia, io ho due canali finanziari, uno con il T3 di WeBank e l'altro, ve lo faccio vedere, questo qua ho il canale finanziario di WeBank, del T3 di WeBank e qua invece ho questo, che è quello di Fineco. Due diversi con notizie che escono in orario diverso, scritto da persone diverse, quindi insomma ti fai un'idea. E qua appena esce una notizia, magari interessante, apro il titolo, prima cosa che faccio, vado a vedere il daily, quindi mettiamo in questo caso, sono appena uscito a fare una notizia su Stellantis, apro, vado sul daily, quindi quello che ogni candela è un giorno e poi in questo caso è giornaliero con sei mesi di storico, mettiamo un anno, di solito è un po' più interessante, ok, qua è un anno, vediamo anche il crollo che c'è stato poi in aprile e poi è nato su. Allora, cosa possiamo notare? Quando guardi un daily, perché prima di operare intraday devi guardare il daily? Perché devi capire cosa sta accadendo, in che direzione sta andando, se è una finta, non finta, se magari, non so, leggi una notizia e vedi che sta già facendo più 5, devi capire magari se quel titolo può fare una finta, non finta, adesso vi spiego cosa vuol dire. Allora, in questo caso apri qua, vedi che ha un trend rialzista, sta tenendo sopra la linea blu, qua è questo trend, quelli che uso io per lavorare, sono medie mobili esponenziali, EMA, composti di 4 linee, 5, 10, 25 e 50, questa è l'unità, poi in base, adesso io se scelgo giornaliero significa che la prima linea rossa sono 5 unità, quindi 5 giorni, la gialla, la linea gialla, 10 giorni, 25 giorni e 50 giorni, come media appunto, quindi più piccola è il numero, più sarà vicino alla candela, in un trend diciamo rialzista o ribassista, il più vicino sarà la linea rossa che è unità 5, e la linea più distante sarà quella 50. Poi vi spiego anche quando il titolo lateralizza, e quindi lateralizzando unisce, tocca tutte e quattro le medie mobili, e questo ve lo spiego dopo. Quindi vado a vedere, questo è da praticamente, da quando si è affossato, ha rotto, ha iniziato a appoggiarsi alla media mobile dei 50, e poi a parte qualche occasione, ha fatto qualche spike al di fuori, ma il giorno dopo ha sempre recuperato, e il trend praticamente rialzista da allora. Poi qua è riuscito a incanalarsi molto bene, stando sopra in modo molto pulito, alla media dei 10 giorni, l'ha sporcato solo qua un attimo, ma era una finta, ecco questo per esempio è una finta, dove ti poteva far capire, quando la candela era rossa fino qua, ti avrebbe fatto capire, che avrebbe finalmente rotto la media mobile dei 10 giorni, quindi si poteva iniziare ad andare short, però dove bisogna aspettare la chiusura di giornata, infatti ha chiuso sopra, quando ci sono le finte, quasi sempre è un segnale al contrario, quindi se qua la finta era andare short, ma ha chiuso, si va al senso in cui era prima, quindi è un forte segnale rialzista. Poi dopo qua finalmente ha rotto, il giorno dopo recuperato ha rirotto, quindi da qua diciamo si poteva prendere short, ma quando ha trovato la resistenza dei 25 giorni, ha tenuto anche questo, è andato di nuovo sui massimi. Adesso cosa ha fatto? Ha cambiato poi nome, insomma da Fiat a Stellantis, e adesso sta correggendo alla grande. Come vi dicevo in qualche video fa, questa resistenza mobile aveva sempre resistito, ma in questo caso non l'ha fatto, addirittura quando può che l'ha rotto, dopo ha fatto da resistenza, e poi niente, oggi è aperto positivo, dopo vi faccio vedere la candela di, cioè vi faccio vedere subito la candela di stamattina, questa è la candela di stamattina, ha aperto qua a più uno tipo, e nella prima candela, quindi nel primo minuto, ha stornato, mi dice come mai? Bisogna andare a vedere lo storico, lo storico ti spiega molto, perché è in un momento in cui questa linea, quella dei 25 giorni, sta facendo da resistenza, quindi se chiude sopra questa media dei 25, inizia una forte resistenza, inizia un trend, un nuovo trend realzista, perché praticamente da qua è andato a scendere, ha fatto base, poteva far base come queste volte, sulla media dei 25 giorni, non l'ha fatto, quindi è andato oltre, io qualche video fa, dicevo che rompendo questo, ottimo punto per comprare, è quando va a appoggiarsi, o avvicinarsi alla media dei 50, non ci è arrivato per adesso, ha rimbalzato, rimanendo comunque sulla linea dei 50, qua c'è un alert, vediamo che cos'è, Sfera, Salvatore Ferragamo, ci guardiamo dopo, e quindi adesso praticamente bisogna vedere se, in chiusura di giornata, Stellantis riuscirà a rimanere sopra la media dei 25 giorni, quindi ha aperto subito a rialza, facendo di capire che voleva tornare verso i massimi, invece ha corretto subito, quindi ha fatto una bella finta, adesso è andato sotto, adesso siamo, quindi praticamente apro il giornaliero, per capire in che situazione siamo, storico, quindi qua capiamo che il trend è comunque rialzista, ma che sta facendo una lotta, se rimanere sopra o sotto la media dei 25 giorni, quindi bisogna stare molto attenti, in questo caso, quindi se si lavora intraday, perché c'è questa lotta appunto, se salire e chiudere la giornata, sopra i 25, alla media dei 25 giorni, o sotto, se si chiude sotto, tendenzialmente si andrà verso questa media qua, che è un ottimo punto di ingresso, perché il supporto dei 50 giorni è il più forte che c'è, altrimenti si apre sopra, se chiude la giornata sopra, è un segnale che vuole tornare sui massimi, quindi capiamo che, se abbiamo letto una notizia interessante, il titolo magari è come adesso, quindi in realtà è negativo, noi sappiamo che in questo caso, quindi qua le medie mobile sono uguali come unità, quindi sempre 5, 10, 25 e 50, ma non sono più giorni, ma minuti, questo è un minuto, il time frame è un minuto, quindi è un minuto per 50, fa 50 minuti, 25 minuti, 10 minuti e 5 minuti, quindi capiamo, avendo visto il grafico giornaliero, che qua siamo in una lotta, se andare sul trend rialzista verso i massimi, o andare, proseguire il trend ribassista, andando a toccare la media mobile dei 50 giorni, quindi dobbiamo stare molto attenti, allora se la notizia fosse uscita fuori adesso, una notizia interessante, che noi diciamo valutiamo questa notizia interessante, bene, non contiamo niente, andiamo a vedere il grafico, e vediamo che per adesso, noi stiamo per toccare i minimi di giornata, addirittura l'ha toccato due volte, l'ha sporcato un attimo, ha recuperato, questo è un falso segnale, quindi quando va sui minimi, ma poi recupera subito, fa una bella candelona, qua c'è il, qua fa capire che comunque sui minimi non ci vuole andare, ma, c'è questa media mobile, dei 50 minuti, che è appunto sempre quello più potente, e sta schiacciando il titolo, in realtà qua sta facendo un bel trend, per andare a toccarla la seconda volta, la terza volta, quindi, prima volta ha fatto, ha toccato i minimi, qua l'ha fatto, ma ha rimbalzato molto, se ci va la terza volta, difficilmente non ce la farà, a, a non scendere sui minimi, quindi adesso vediamo, se recupera o no, comunque, mettiamo il caso, notizia, fosse positiva, noi, desideriamo comprare, non conviene comprare, prima che la candela, ad un minuto, chiuda, sopra, alla media dei 50, ok, perché, dopo cambierebbe il trend, quindi adesso, fin quando siamo sotto, alla media dei 50 minuti, noi abbiamo un trend negativo, quindi, non ha senso andare positivo, se non scalping di uno o due minuti, ma, è sempre, comunque meglio, entrare nel trend, cioè, non prevedere, il trader, non prevedono il futuro, ma seguono i trend, ok, noi non sappiamo prevedere il futuro, ma sappiamo seguire i trend, quindi, fin quando, sta sotto la media dei 50, noi rimaniamo qua, allora, un'altra cosa, adesso, in questo caso, noi stiamo usando le candele, cioè noi, sto usando le candele, le candele si usano con titoli, con del volume, cosa significa il volume, quando si ha tanti scambi, ok, quindi Stellantis per l'Italia, adesso sta scambiando, 4 milioni, quasi 5 milioni di azioni, e, quindi, insomma, è un bel volume, per 13, insomma, sono tanti milioni di euro, quindi, ogni minuto, si vede che fa comunque una candela, che si muove, e, invece, andiamo a vedere un titolo, tipo Sugarframes, un titolo su cui io lavoro tantissimo, andiamo a vedere se è un titolo che ha pochi volumi, questo è un titolo dell'Eleim, allora, con le candele, guarda cosa si vede, fa proprio schifo, si vedono dei puntini, perché se fai una candela, che non ha volume, quindi non si spuove, fa solo un trattino, è bruttissimo da vedere, sporchissima, sporca tutto, è proprio una roba, inguardabile, quindi, in questo caso, non guardo, non uso mai, con i titoli, con un flottante basso, comunque, con pochi volumi, le candele, ma uso le linee, quindi ogni minuto, fa un punto, dove finisce, al prezzo che finisce, e tratta una linea, al punto dopo, dove finisce, dopo un minuto, fa un altro punto, e unisce tutto, almeno è un po' più chiaro, insomma, il trend è sempre, in questo caso, non sta capendo cosa deve fare, adesso vi faccio capire perché, allora, in questo caso, vedi, sale, scende, sale, scende, sopra le medie mobile, in questo caso, le medie mobile, non stanno facendo nulla, non si sta capendo, è proprio una lotta, fra saliamo, scendiamo, saliamo, scendiamo, quindi qua è fondamentale, guardare il book, ma ci basiamo, solo le medie mobili, quindi, andiamo a vedere il giornaliero, di questo titolo, per capire perché c'è questa lotta, ecco il titolo, in questo caso, possiamo usare, le candele, perché le candele, col giornaliero, perché in un giorno, il titolo, comunque si muoverà, non starà fermo un giorno, a meno che non scambia per niente, quindi, se scambia in un giorno, la candela ha senso, se scambia in un minuto, la candela un minuto ha senso, se non scambia in un minuto, non ha senso, in questo caso, in un giorno, comunque, anche un titolo, con pochi volumi, comunque si muoverà, quindi la candela avrà un senso, allora, questo è un titolo che, in stile, Nasdaq, insomma, da 1, da 1 euro, a 5 euro, qua c'è il 500%, quindi, uno dice, andiamo su Nasdaq, ma abbiamo anche delle cose interessanti, qua sull'Italia, allora, quindi cosa fa? Praticamente, sta andando sui nuovi massimi, la lotta che noi vediamo, è perché ha ritracciato, qua ha toccato i massimi storici, a 5 euro, poi ha ritracciato tanto, il giorno dopo, si è rindecisi, oggi è un altro giorno, in cui si è indecisi, fra che cosa? Fra rimanere sopra questa media mobile, dei 5 giorni o meno, finché sta sopra la media mobile, dei 5 giorni, è un trend molto potente e rialzista, cioè è il trend più forte per andare a rialzo, poi c'è la media dei 10 giorni, dei 25 e dei 50, fin quando rimane sopra questa media mobile, e la lotta è proprio su questo, perché se va a sporcare questa candela, si va subito a quella successiva, cioè a quella dei 10, c'è un bel gap, rompendo questo si va ai 25, rompendo si va qua, rimanendo anche se toccasse questa media qua, sarebbe sempre un trend rialzista, però non nel breve, nel senso che adesso, nel breve deve rimanere sopra questo dei 5 minuti, se oggi questa candela va in verde, è altamente probabile che si va verso i massimi, ok? Quindi quando vediamo un grafico giornaliero, di questo tipo qua, che non si capisce assolutamente niente, perché sta andando su e giù, eccetera, noi non dobbiamo fare nulla, difficile opera, a meno che non sei uno che sa quello che sta facendo, che può lavorare, ma col book, quindi vedi magari qua c'è una resistenza del book, può anche comprare, però dal grafico qua non si capisce niente, bisogna comunque aspettare una rottura dei massimi, però nel giornaliero possiamo capire appunto cosa sta succedendo, qual è la guerra in atto, la guerra in atto è di rimanere sopra la media dei 5 giorni, ok? Col giornaliero stiamo qua, quindi se questo torna in verde, quindi se va in positivo, adesso sta facendo meno 1,37, se va in positivo a toccare i massimi, questo diventa interessante, soprattutto in chiusura di giornata, è probabile che poi, se oggi chiuda in positivo, è probabile che dopo si va a continuare questo trend, allora torniamo al nostro Fiat, quindi semplicemente quando tu hai un titolo, vai prima a vedere il giornaliero, quindi lo storico, vai a vedere cosa sta facendo, in che posizione è, ok? Quindi questo è un trend rialzista, ma sta facendo la lotta di cui vi parlavo prima, poi andiamo a vedere quello giornaliero, e questo è il daily, quindi time frame a un minuto, poi noi possiamo usare il time frame che vogliamo, cioè in questo caso il time frame a un minuto, sta funzionando benissimo, vedi tutto pulito, sta mantenendo la linea molto bene, quindi è un, ecco qua fra l'altro, quello di cui tipo io parlavo prima, la terza volta che ha toccato, qua doveva crollare, non l'ha fatto, ha fatto un'altra finta, è andato sul verde, quindi qua ci sta un po' prendendo per i fondelli, per chi cerca di andare short, qua ha dovuto sempre chiudere poi o a pari o in perdita, Stellantis diventa molto interessante, a questo punto ha la rottura dei 25 minuti, questo ve lo tengo d'occhio, perché è già la terza volta che cerca di andare giù, non ce la fa, abbiamo visto che è in lotta fra rompere quel trend o no, nel giornaliero, quindi questo diventa molto interessante, la rottura dei 25, la rottura dei 50 minuti, questo diventa interessantissimo, adesso appena finisco il video, mi sa che mi ci metto, ecco ci sta già andando, quindi praticamente questo è, se per caso avesse tipo un grafico un po' più sporco, come in questo caso, noi possiamo anche adottare altri time frame, ognuno ha la propria sensibilità, 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti, vedi noi possiamo vedere che con il time frame a 5 minuti, quindi ogni candela dura 5 minuti, ha la rottura dei 10, nella linea dei 10, quindi sarebbe 10 per 5, e qua rompiamo finalmente questo trend, che è durato veramente tanto, quindi c'è chi lavora col time frame a 5 minuti, a 10, a 25, a 30, a 50, ognuno deve avere la propria sensibilità, e ha un modo per entrare e uscire dal mercato diverso dagli altri, quindi sta in te, non copiare qualcun altro, lui usa il time frame a 2 minuti, quindi lo uso anch'io, no, tu devi, come ho fatto io, io non ho fatto mai nessun corso in vita mia, non ho fatto niente, io semplicemente guardavo i time frame, guardavo le medie mobile, e vedevo quelli che disegnavano meglio il trend, quindi se tu lavori su un titolo, io ho tanti titoli che mi fanno veramente schifo, se qui non lavoro, perché proprio con i miei time frame, e i miei trend non sono così puliti, hanno, vanno sopra, vanno sotto, insomma non hanno un metodo, non seguono i trend che io utilizzo, e quindi semplicemente non li traido, solo quando poi fanno, salgono molto, scendono molto, sono interessanti, ma se no non li tocco, e ci sono titoli che lavorano perfettamente nei time frame, che uso io, e quindi io lavoro su quelli, voi magari avete un arco temporale diverso dal mio, quindi giocate un po' con i time frame, vedete un po', insomma cosa funziona per voi e cosa no, e dopo decidete in tranquillità, quindi non cercate di copiare pari pari dagli altri, cercate di capire qual è il metodo, che per te, per il vostro carattere, per la vostra sensibilità, possa andare bene, avete tantissimi strumenti da provare, quindi mettetevi lì, giocate un attimo, e vedete, non so, magari vi accorgete che ogni volta che andava a toccare il 50, poi tornava giù, e voi provate quel sistema lì, ogni volta che un titolo tocca il 50, voi partite short, e andate giù, se lo rompe lo chiudete, lo stop loss e lo stop profit, io, come avete visto, non li metto mai, così, una cosa fissa, perché il trend è una cosa che cambia da ogni minuto, cioè questa linea, questo minuto è qua, il minuto dopo è da un'altra parte, io semplicemente mi baso sulle medie mobili, quindi se io sto lavorando con un trend, come in questo caso, magari da qua, ero partito short, sto tenendo questa linea gialla come riferimento, questo è il mio stop, ma che poi diventa anche il mio stop profit, diventa sia lo stop loss che stop profit, perché se io sono entrato short qua, se mi andava a bucare qua, io chiudevo, e magari chiudevo in perdita, ed era il mio stop loss, ma il minuto dopo la linea scendeva, quindi il mio stop loss era sempre più basso, sempre più basso, addirittura dopo lo stop loss era comunque uno stop profit, quindi dopo stop profit, stop profit, stop profit, stop profit, e dopo alla fine, quando è arrivato qua che aveva bucato, io qua sarei dovuto uscire, e questo è sempre stato il mio stop profit, ma anche il mio stop loss, che poi non è uno stop loss perché non avrei mai perso, ma comunque coincide, non potevo mai mettere una cosa, uno stop loss fisso, io vedo tantissime altre persone che vogliono per forza avere un stop loss quando tu entri, ma se tu ti fai governare dai trend, quindi dalle medie mobili, sono loro che decidono qual è il prezzo di chiusura del trade, sia che tu sei in positivo, sia che tu sei in negativo, cioè sia che tu stia guadagnando che perdendo, tu devi seguire il trend, ma devi saperlo però prima di partire, cioè io decido, bene, io parto da qua, se mi rompe qua, al massimo quello che posso tenere è questo viola, se proprio sono talmente convinto che secondo me ce la fa, gli do un'altra chance, ho questo spazio qua, è come se tu spostassi lo stop loss più in alto, che però la linea ogni volta scenderà, scenderà, quindi il tuo stop loss sarà sempre meno, fino a quando sarà uno stop profit, quindi l'entrata e uscita, io lo determina per come lavoro io le medie mobili, a questo punto siamo a 21 minuti, quindi farò un altro video che parla delle medie mobili, farò tantissime altre, quindi iscrivetevi, ma il prossimo lo farò su la laterizzazione, perché quando un titolo va laterale, tutte le medie mobili si vanno a toccare, e quando si vanno a toccare le medie mobili, appunto dopo sono tutta una linea unica, e vi spiego come funziona, ciao a te, se vi piace pollice in su, c'è la playlist con questo, che è una specie di corso virtuale, gratuito ovviamente, iscrivetevi al canale, che se vedo iscritti nuovi, pollici in su, insomma se vedo che seguite, apprezzate, io vado avanti, ciao!